Bene, vediamo un altro argomento importante, ovvero lo studio degli schemi di prezzo. Come abbiamo visto nel corso di questi tutorial, noi abbiamo bisogno di studiare alcune componenti previsionali per conoscere meglio i nostri mercati di riferimento. Si tratta di piccoli dettagli che fanno tutta la differenza, quei piccoli dettagli che dobbiamo conoscere per comprendere come i nostri mercati ogni giorno lavorano per funzionare. Ho citato anche questo libro di Larry Williams, dove lui appunto dice che, a proposito di questo tema, che si è sempre sentito come un archeologo piegato sui rotoli del mar morto intento a decifrare questo codice segreto dei mercati finanziari, questo linguaggio complesso che i mercati finanziari utilizzano per indicare il comportamento della liquidità presente. Queste informazioni che emergono a volte ci consentono di sfruttare un margine previsionale, a volte no. Il punto è che quando certe cose si allineano è lì che possiamo fare ottime cose, grandi cose. Quando invece le informazioni sono, diciamo, passive, sono piatte perché indicano che la liquidità non si è sviluppata, semplicemente ci limitiamo ad aspettare. Ci limitiamo a leggere ancora, quotidianamente, i dati che emergono al mercato, perché ogni barra giornaliera che emerge porta con sé una serie di dati che noi dobbiamo analizzare e studiare. Ogni giorno abbiamo dati nuovi e ogni giorno studiamo questi dati per arrivare al margine previsionale che ci serve per tradurre tutta questa attività in profitto. Ok? Bene. Come ho spiegato anche nel tutorial precedente, l'attività si svolge, diciamo, in due fasi. Abbiamo una parte che riguarda il lavoro previsionale e stiamo lavorando con questi tutorial a quei dettagli previsionali che dobbiamo conoscere. E poi dovete sapere che l'attività si completa proprio la gestione, perché da un punto di vista previsionale non siamo in grado e non saremo mai in grado di anticipare con successo tutte le volte i mercati. Quindi c'è un limite, perché non siamo in grado di prevedere il futuro. Come vedremo in tutorial che sto preparando, e li troverete tutti quanti su YouTube, abbiamo a disposizione, tutti i trader hanno a disposizione, le tecniche gestionali che servono a separare le opportunità infruttuose da quelle che hanno un potenziale. E' così che poi si mette in opera un'intera gestione che porta a un profitto. Ok? Non pensate mai di vincere sui mercati utilizzando solo le componenti previsionali. E' una parte del lavoro molto importante, ma non è tutto. Va bene? Ok. Vediamo come funzionano gli schemi di prezzo. Abbiamo visto il comportamento delle singole barre di tren, delle barre pivot, come i mercati si sviluppano prima di formare una tendenza oltre a una congestione, e come funziona la teoria di Do. Aggiungiamo a tutto questo lo studio degli schemi di prezzo, e abbiamo visto anche nel video precedente il ciclo e le variazioni in range. Quindi un'altra componente, oltre a tutto questo, che ci serve a comprendere sempre di più leggendo i grafici, che cosa la liquidità sta facendo. Va bene? E vedremo altri argomenti, ci sono tantissime cose, che noi possiamo studiare, tanti dettagli che sono di grande importanza. Allora, io ho sempre diviso lo studio degli schemi di prezzo in due categorie. Gli schemi ampi, come questi qui, e gli schemi veloci, come questi qui. Ed è possibile studiare un'ottima spiegazione per quello che riguarda gli schemi di prezzo nel libro Rigelos, Day Trading, dove lui spiega la legge dei grafici. Spiega questa stessa cosa con parole diverse. Io sono partito da quell'esempio e poi ho utilizzato quell'esempio per sviluppare qualcosa di adatto ai miei mercati di riferimento e comunque al mio trading. Perché ognuno di voi deve far così, deve adottare questo metodo. Non dovete mai cercare di prendere soluzioni già pronte e metterle in opera. Dovete prendere idee da parte di altri trader per integrarle nel vostro trading, appunto per creare qualcosa di pienamente compatibile con le vostre esigenze. Va bene? Però potete utilizzare tante idee che trovate all'esterno, ma per creare qualcosa di vostro, di, diciamo, personale. Va bene? E' così che funziona il trading, o almeno io così ho conosciuto, questo è il trading che io ho conosciuto. Allora, come funzionano gli schemi ampi? Gli schemi ampi sono formati da più barre e di fatto sono delle congestioni. Come abbiamo visto nel video precedente, quando ho spiegato il ciclo delle variazioni in range, ho spiegato che se abbiamo bisogno di una tendenza, dobbiamo studiare in questo momento tutte quelle basi che formano piccoli range. Bene, due di queste basi sono appunto gli schemi ampi. Dico due perché io qui ho riportato due esempi di congestioni. Ce ne sono molti altri di congestioni. Ok? Ogni congestione ha le sue caratteristiche. Le congestioni non sono tutte quante uguali. Abbiamo per esempio, giusto per farvi capire, le congestioni che hanno meno di 5 barre settimanali, che prendiamo come riferimento sul giornaliero. Queste congestioni sono appunto le congestioni veloci, ovvero questa qui che ho disegnato. meno di 5 barre settimanali, da 10 barre giornaliere fino a 5 barre settimanali al massimo. Queste congestioni sono veloci, cioè confermano la presenza di liquidità, sviluppando poche false rotture, e tutto questo traduce, diciamo, consente al trader di arrivare ad un profitto con un carico di spese molto molto limitato. E quindi è una congestione veloce, più semplice. Tutte le congestioni invece che hanno più di 5 barre settimanali tendono a richiedere da parte del trader un lavoro un po' più intenso, perché sviluppano tante false rotture, ma poi quando formano la conferma e la liquidità tendono a sviluppare una riazione più ampia. E quindi, per esempio, una congestione con meno di 5 barre può produrre obiettivi di profitto di 150, 300 pip, 500 pip. Ok? Sul mercato come l'euro-dollaro. Una congestione che ha più di 5 barre può arrivare anche a 700 pip, a 1200 pip, in certi contesti, in certi momenti. sappiamo che oltre questi schemi si possono formare ampie tendenze, ma abbiamo bisogno di studiare anche le tendenze dominanti e le tendenze primarie che vedremo in un altro video. Ok? Che indicano sul time frame mensile settimanale la direzione della maggior parte della liquidità. Vedremo in un altro video questa cosa. Va bene? Giusto per farvi capire che c'è un'altra componente su cui dobbiamo prestare attenzione per poter capire poi come le congestioni fino in fondo si sviluppano. E quindi adesso abbiamo visto qualche dettaglio che riguarda le congestioni. Le congestioni si possono formare anche in una maniera diversa. Invece che in questo modo, si possono formare in questo modo. Ok? Quindi utilizziamo in genere i livelli di azione e reazione di Andrews per poter lavorare su questi schemi e in tutti e due i casi però con tutte e due le tipologie di congestioni e questo si fa con tutti quanti gli schemi ampi si lavora attendendo la conferma della liquidità. Quindi barra di trend con prese di profitto ridotte. Se non avete visto il tutorial precedente dove ho spiegato la tirida di Do magari può essere utile perché la tirida di Do appunto è la base che ci consente di capire che oltre a una fase di trend abbiamo bisogno di prese di profitto ridotte per anticipare lo sviluppo di una tendenza. Va bene? Detto questo andiamo a vedere gli schemi veloci. Gli schemi veloci sono appunto più veloci danno accesso a una tendenza entro poche barre e sviluppano però una tendenza più breve. Quindi possiamo avere oltre a questi schemi obiettivi di 150 300 pip. Va bene? Talvolta anche di più ma tutto questo poi dipende dal contesto che c'è attorno. Questi schemi si utilizzano e sono qualcosa di simile ai ROSSUC. Per esempio voi nel libro di Giros potete studiare i ROSSUC questo qui è un ROSSUC compatibile anche questo lo è. Anche questo lo è. Anzi no questo no chiedo scusa perché questa barra per come l'ho disegnata non è chiusa dovrebbe chiudere e ci dovrebbe essere qui una barra a fianco. Va bene? Invece questo è uno schema veloce che si può gestire anche in questo modo. Va bene? Senza attendere la chiusura di questa barra. Questo invece è un ROSSUC compatibile. il ROSSUC la regola del ROSSUC è che un mercato che sviluppa praticamente non sviluppa più un nuovo massimo configura un ROSSUC mentre uno schema veloce può essere qualcosa di questo tipo anche ed è compatibile e fa parte di quelle integrazioni che io ho sviluppato per il mio trading. Quindi ragionate su queste evidenze e osservate questi schemi su time frame giornaliero e su time frame H1 e troverete faremo un altro video su questo tanti punti in comune tante basi che danno accesso a delle tendenze. C'è una cosa che Geroz spiega nel suo libro dei trading e spiega che se noi abbiamo bisogno di una tendenza qual è la cosa migliore da fare? Andate a studiare tutte quelle tutti quei casi in cui si sono sviluppate delle tendenze per andare a vedere alla base che cosa ha prodotto quelle tendenze. Io ho fatto questo identico lavoro e sono emersi questi schemi quindi se lo fate anche voi troverete delle evidenze interessanti per poter comprendere come qual è la porta di accesso alle tendenze no la base che a noi serve per realizzare un profitto va bene ragionateci su ci vediamo nel prossimo video buon lavoro grazie a tutti